Ma prima vorremmo il Ministro che poi dopo dovrà andare fa invece un saluto e anche qualche considerazione su quello che ha sentito finora. Grazie, buongiorno a tutti, mi scuso perché devo andare a Firenze, sono già molto in ritardo, volevo ringraziare i relatori, spero che ci sia un'ampia discussione su questo tema. Fra l'altro io ho imparato tantissimo dai miei fratelli studiando sui loro libri, i loro appunti e le note, ho capito tanto di loro e quindi effettivamente la trasmissione anche delle annotazioni serve. Quindi ho apprezzato particolarmente quest'ultima presentazione e volevo lanciarvi questa responsabilità e questo testimone, credo che noi abbiamo come Ministero bisogno di voi e di questo dibattito. Io sogno un mondo in cui il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca è un regolatore e un'agenzia di sostegno e promozione e non un pachiderma burocratico che emette norme. Quindi mi auguro che riusciamo insieme a gestire questa transizione in cui noi riusciamo davvero a essere i promotori di questa innovazione verso la scuola digitale. Condivido il fatto che l'Università è molto più indietro della scuola su questo tema, oggi me ne sono resa conto un'altra volta e quindi è un settore questo in cui la scuola può davvero portare avanti tutto il sistema di istruzione. Grazie.